Una notizia che dovremmo confundire dalla Università che ha e che quest'anno dovremmo dire il processo di Bolognino di Cesano per l'ultima felicitazione e purificazione del padre di Genio Pial Diciamo che è un appuntamento e un traguardo atteso perché la conoscenza che ripartirà ancora molti anni in diocesi sia a livello di sacerdoti sia delle suore sue e sia dei confratelli che appartengono alla congregazione da lui istituita da tempo guardavano a questo giorno Signore Gesù 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 Grazie a tutti.